Troppo Risenson Io ho detto che rischia anche il terzo Quindi figurati Purtroppo il primo e il secondo l'avevo già messi via E credo che fra Kondakova e Kanaeva Ne è dimostrazione anche il nastro Il nastro Kanaeva ha fatto degli errori Kondakova non ne ha fatti Eppure ha preso 0-10 di meno Quindi direi che è Kanaeva Kondakova E terza Vedremo Dopo la staniuta Potrebbe essere decisiva la palla Già dal prossimo attrezzo Andiamo a seguire la Risenson Direi una delle belle sorprese di questo mondiale Isabella Grazie a tutti Grutta perdita E' da dare anche fuori pedale Quindi 0-70 per la perdita La giuria esecuzione Più 0-20 per l'uscita dell'attrezzo Più 0-20 per l'uscita della ginnasta Che verranno levate Questo 0-40 dal totale E vogliamo aggiungere anche Ci dispiace E vogliamo aggiungere anche purtroppo Ci dispiace E vogliamo aggiungere anche purtroppo Il primo movimento della ginnasta Quindi non dico che la musica non c'entra niente Perché quella è una penalizzazione Non di 0-0-5 Ma una penalizzazione di concordanza Musica-movimento E con l'errore E di un'altra giuria Invece il cronometrista Preme appunto il cronometro Al primo movimento della ginnasta E lo stoppa Grazie